Aspettate un attimo, mi sono sentato Ma che cazzo ci fa un trattore che gira intorno? Tiriamogli una granata Oh mi sa che è esploso il trattore, non c'è più Ho fatto esplodere il trattore Possiamo andare avanti? No, su serio, andiamo avanti ragazzi, avete punti Aspetta, ma c'è davvero qualcuno che dice che Ghost è un bel gioco? No, si sono lamentati perché Zombie si è lamentato che il gioco non gli piaceva Si, ha fatto un discorso veramente molto profondo questo tipo Ha detto, tu non puoi dire Ma sai che io profondamente gli metto un pugno nel culo Tu non puoi dire, ascolta Tu non puoi dire che un gioco fa cagare Quando nel mondo c'è gente che muore di fame Che non riesce a comprarsi il pane, tu non puoi dire che un gioco fa cagare Io mi disiscrivo Ha scritto così E niente A questo punto, questo discorso Peccato Ha fatto bene a disiscriversi Eh, si No, figa, io voglio il video dei 50.000 iscritti Quindi Eh, mancano solo 1.000 iscritti e l'ho anche quasi finito Non ancora Voletevi a iscrivervi Invitate Ragazzi Ragazzi, iscrivetevi perché il video dei 50.000 iscritti è una sborrata Eh? Aiuto, 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 aiuto Aaaaaaah Io aprirei tutto qui in jambu Che stolti siete In jambu Uno chiede aiuto Chiede help E nessuno Nessuno Fra, fra, fra Ho finito le ammo Io le ho ria Wunderwaffali, Wunderwaffali Ma che cazzo stai No, ho l'espossato Ma che cazzo Ci sono solo 20 zombie ragazzi, sfondate Fra Devi Wunderwaffali Ah, comunque ho comprato la Playstation 4 Ah, random Ragazzi Ragazzi Fra, Wunderwaffali Ho perso Vi uccido Perché siete così stolti? E fra che può Wunderwaffali No, 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 basta Allora ragazzi Voto Votate Chi è spulgere Chi è spegliere Allora, io non ho le armi Chi Che Io non ho le armi Io non ho le armi Allora Gira, gira E rialimelo Gira però Vai Rientra dentro Non andare di qua Mi fai uccidere i zombie Spero che moriete Moriete Chi espulgiamo dalla prossima custom map Fra Mi sta inquadrando Sì, che che ho no Chi sta inquadrando Fra per terra Guarda Che non sta No No Sei un'idiota Gammu Espellete Gammu Gammu Basta Espellete Gammu Non c'è altro Non lo amo E loro vanno a terra Trivago Ti risparmia Mi avete coperto il culo Madonna Santa Allora Vai Vai A prenderlo Mi fai Deve 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 Dargli supporto morale a Gammu Perché qua è Ci penso io Guarda qua Oh merda Via Copyright No Copyright Rinate Oh cazzo Oh cazzo No no Zombie Corriamo Sì Dall'altra parte della mappa Gammu Bravo Di solito quella canzone lì Vero che anche il tuo respawn Metodo funziona bene Ehm Fra Vero che quando metto quella canzone lì va tutto Va tutto a bumpine Sì ovvio Ho fatto uno sciame con quella canzone Esatto Madonna quanti suoni Usando una mano È un piede No 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 che zombie va solo 97 uccisioni Chris almeno prima c'era Debe Potevo dire di essere peggio di qualcuno Cioè meglio di qualcuno Senta lei Adesso no Io voglio No guarda che C'è benissimo che non faccio vedere che sono forte Se no poi vi deprimete Esatto Infatti hai comprato la ps4 Ma l'hai comprata sul serio? Certo io ho avuto tutte le console playstation Ho avuto tutte le console sony Cioè non Starò sempre sul pc ma la console sony la devo avere Perchè ci sono giochi che meritano davvero di essere giocati Quanto hai pagato scusa? 399 Solo? Eh beh Si si Esce a 400 euro la nuova playstation 4 Invece la xbox costa 500 euro Mmm sono quasi tentato Sono quasi tentato ma 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 no Davvero? Per adesso no ma vediamo vediamo in futuro Ragazzi se volete vi apro un'altra porta Andiamo avanti sull'esplorazione Ok ragazzi Apriamo e esploriamo Apropo Dov'ora l'esploratrice Double tap Non ce ne facciamo nulla Per il momento Oh cazzo non ho il jug Ma si può fare un gioco così da froci? No non avete preso il jug Vai e prenderso dai Eh si però Chris non ho punti Ok alla fine Aaaaaah Molte c'è su Giuseppe e Maria Colpa mia sono stolto ragazzi Aia 20 manate Fra Mi salvi tu eh E6 Cosa c'è 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 se mi lascio morire anche adessoESTO io 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 ci provo però Dai vai 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 Ti stavo rianimando Jambu non ne fa una Bene Jambu è andato fra I solo ignoranza di nuovo Come sempre perché qua l'unico che è in grado di giocare Oltre a Debe è fra Ma non ne vedi Ma se non sono mai andato a terra Tutto in grado Ti stavo rianimando Dai vai a tirarlo su perché se no poi si offende No ma ammazzalo pure Fra che Che bella posizione Jambu Molto Ecco dall'altra parte della mappa di nuovo Eh tanto dobbiamo andare a prendere il jug Bene così così si gioca COD L'unità di squadra Sto arrivando Sto venendo da voi Dai caboss Oh vphs Beh lui ti prova Dove si compra Lo troppo il muro Eh dove si compra Eh dove c'è venire da me Dove c'è il double tappa Io sto correndo al jug Ok che arrivo Io so se zarmi Senza punti Vado a prendermi ppsh Ma no ma vai a prendere il tipo Non rompere il cazzo Ma no Cattiveria Ti voglio bene Non me la merito questa cattiveria In realtà si Ma va bene Allora quando vieni a Belluno Dio bono Che facciamo il prossimo episodio di Worms in chiesa Dai Jambu Quando vieni a Belluno Eh a Natale Vengo se mi monto il computer Intel o AMD Che sia Se è Intel te lo monto Se è AMD ti fotti Porca di quella vacca Vedrete il video segreto Oh ma se non mi rianimate adesso Io vi lascio Vi lascio qua e Termino la partita No Io termino Ma santissima trinità Scusa Cristo Oh ma cazzo Andate a finire Eh io sono andato a prendere il jug Ma ti fanno spawnare Culei lupi C'è la Reagan da me E Cristo Non è Oh frano Lì è dove mi hanno ammazzato Hai il jug almeno Sì ma che cazzo Oh cazzo Ce lo zoppo Scappa fra Scappa fra Oh cazzo Oddio che culo Ti vero Oh cazzo Porca puttana Oh porca puttana Guardiamo allo strofra Che corre Si gira Chiara a tutti Oh Cristo Se il pps è che è forte Oddio che arma Oddio ragazzi che arma Guardate come le teste esplodono Oh cazzo Perché c'erano tutti lì Allora siete morti Guardi No Quasi No perché c'è Perché c'è frasse no Cristo con Giambo Sì Perché tu sei l'ingratto Ti verrà un cagotto Sì no Ma lo so che Giambo Cioè Deficita un po' No doveva esserci Dave Se l'unica persona forte Della partita Dopo fra Crescia Crescia Non si può andare avanti Guarda che Che se non fosse per me Le custard Non le avresti mai finite Le ho prese tutte le custard Le custard Su Slendytubbies Granate fra Sono rimasti in 4 Ma ragazzi Io poi Ho scoperto come concludere La mappa alcatrati Non l'abbiamo più fatta Siete proprio delle persone La facciamo dopo no? Eh potremmo fare anche quella Se volete Cioè come volete voi Se Debe Sa concluderla E sa Giocarci bene Perché Debe poi è Ormai è Andy che mi conosci Ma non sai che io so tu No ma Debe Ma infatti io sono il primo Che dice che Debe Possiamo paragonare Debe Uguale a skill Sono il primo Che dice questa cosa A chi? A skill Che cazzo è? Eh beh vede Capirai Capirai il giorno Un giorno capirai Debe Un giorno capirai Debe È un complimento Fidati Molto bene Non ucciderlo bra Sei skillato Lui Lui è uguale a skill Niente Basta È finita per lui Eh sì sì Ma proprio No no ma proprio Skill quello vero eh Sì sì quello vero Non limitazione Quello vero Insomma noi stiamo fottuti Beh sì E tre round che vada avanti così Dezini secondo te non lo so Da qualche ho capito è una partita molto interessante Eh no sì perché tu sei in chat vocale Se no Se no Se no C'è un'arma di Cioè se ti si può Sto facendo bestemmiare i santi Di un po' Guarda che ti prende i punti doppio Guarda Guarda adesso ti faccio un Guarda questi due zombie davanti 360 Merda Io me ne sto qua finchè non ho Ok adesso Adesso faccio un 720 Oh cazzo No Ecco Mi è scivolato il mouse Mi dispiace Vai già Allora Jambu Questo è per Dimi cosa devo fare Ok Questo è per spiegarti cosa devi fare Jambu Gira Gira Largo Larghissimo Come su 5 Ti ricordi Fabio Sì Sì Bene Giri larghi E omogenei Vai su Vai su per la stradina Tardi No Stai diventando troppo rosso Stai diventando troppo rosso Sono troppi Io vorrei Cioè Un teletrasporto Ecco io seguo Ma io faccio posto a morire Perché così seguo Fra Che interessante Ma che cazzo Fra Fra esplora Oh ma è enorme Eh vabbè ma io non riesco Fra se che sei un po' in un posto di merda Se dovesse arrivare un'orda di zombie Cazzo Ma fra Oh la cassa Ma perché sto gioco da froci S'arrampica Fra se della merda Fra se della merda Fra se della merda Fra se della merda Fra cassa cassa Prega in un mg 42 Scembia Merda Cristo Prega in un mg 42 Moltello balistico Fra 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 fatti cassa Non ha punti Cristo Fatti Merda Ma forse si sono anche bugati Perché non arrivano Che cosa? No su serio Guarda sono tutti bugati Fra Che culo Sono 81 ma non li vedo Che bello Andiamo Ah no su serio Ci sono 81 zombie Non ci sono No esatto 80 adesso E quel teletrasporto cos'è fro? Vabbè Fondo dopo Ne arriva una alla volta E se vedi che da 79 Va giù a 10 Mh 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 Cosa? Devi andare dal teletrasporto penso Andiamo Occhio a due esemplari di zombie spaiati Oh cazzo scappa Cristo Perda Si via si via si via si via Grande fra Qua si vede la proagine di un player di Kod Oh porca puttana Oh porca puttana non ti cazzo Dio Occhio fra Occhio L'ho colpito davvero L'hai colpito Si 60 Munizioni Non ho munizioni Non ho munizioni Merda Ok torna giù dall'essere No E qua dove vai Ma che cazzo No Non puoi Oh cazzo Schiva 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 No fra Secondo me Oh Jambu dov'hai finito Scusate Allora Stava anzi stendo in silenzio alla morte Allora ragazzi Non è finita qui Ci saranno Altre parti su questa custom map Però Per ora Ma soltanto per ora è tutto Ci vediamo da altre parti su questa custom map Devo mangiare Ci ha to te Ci ha to te